Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel quinto episodio della carriera con il Biuri, ultimo episodio del mercato estivo, vi voglio anche ricordare intanto di mettere un bel mi piace, arriviamo a 2000 mi piace per supportare questa serie, supportatela anche con un commento, ditemi quando è secondo voi stato il miglior acquisto, cosa secondo voi manca ancora a questa squadra. Vi ricordo anche che oggi alle 14, alle ore 14 sarò in live su Twitch per continuare la carriera, siamo verso il mese di novembre su Twitch quindi credo che inizieremo anche a parlare di mercato e probabilmente arriveremo anche già al mese di gennaio, quindi venite assolutamente, link in descrizione nel primo commento del canale Twitch. E come ben sapete con novembre arriva anche il Black Friday, in questo momento su Eneba.com ci sono un sacco di sconti che andranno avanti per come vedete ancora 13 giorni fino al 29 novembre, su un sacco di giochi praticamente tutti ci sono delle offerte Lampo, mi raccomando non perdetevele, vi lascio il link in descrizione, potete dare un'occhiata a tutte le varie offerte che ci sono, su un sacco di giochi anche appena usciti, potete anche acquistare come sempre le PSN Card, le Xbox Live Card che io vi consiglio, sempre e come vedete aprite il link e dateci un'occhiata che ci sono un sacco di giochi veramente a prezzi bassissimi. Quindi vi lascio il link in descrizione di Eneba.com, codice JAS per il 3% di sconto, ora godetevi il video e mi raccomando mettete il mi piace e iscrivetevi al canale. Ora andiamo a giocare contro il Tramir che è primo in classifica, siamo ancora all'ultimo posto, abbiamo soltanto un punto, ultima partita del mese di agosto, poi avremo gli ultimi giorni di mercato per concentrarci sulle ultime operazioni di mercato, le maglie sono entrambe bianche quindi andiamo a cambiarle, noi siamo in casa quindi terrei questa e loro potrebbero giocare con questa qua anche loro azzurro e granata, maglia simile a quella della Stonevilla o del West Ham. Andiamo a giocare contro la capolista, vediamo di fare bene, c'è qualche nuovo acquisto in campo, forza, forza Beauty, andiamoci a prendere dei punti. Eccoci qua a Stainton Park per Burry Tramir, siamo alla quinta giornata di campionato, ultima di questo mese di agosto ma siamo sotto la pioggia al 28 agosto, Rowy subito per Amu, attenzione che c'è spazio da quella parte che è scivolata di Clark, fermato il nostro esterno, poi attenzione che può ripartire addirittura subito il Tramir, palla centralmente per Maynard, ancora loro, palla larga per Oukis, non facciamolo crossare, riesce a passare, arriva il cross sporcato e non ci credo, tocco di mano di Ciamadeu, scusate, tocco al limite dell'area, l'arbitro però l'ha visto ed è calcio di rigore, vediamo, era proprio al limite dell'area, qua in Genuo il 17enne ed è subito calcio di rigore per loro, McManaman contro George, McManaman e la para George, grande George il giamaicano, spinning da calcio d'angolo, ancora non è finita per loro, gli regaliamo il pallone, ancora lì e questa volta George non può niente, ancora loro, passa molto bene il pallone per il loro terzino centralmente, bravo il capitano, un altro tocco di mano, io non ci credo, questa volta di Walker dentro l'area e questa volta calcio di rigore, sempre McManaman contro George, George da quella parte, questa volta segna un rigore fantastico, attaccano ancora loro, stiamo attenti, Watson per McManaman, il tiro e qua George poteva e doveva fare meglio, ma difensivamente non ci siamo, al 37esimo siamo sotto 3-0 e sono nettamente favoriti e troppo forti, spearing dalla bandierina, una palla messa lì, attenzione che possiamo provare a ripartire con Amu che deve spingere in velocità, Amu se ne va via, molto bene Amu, Amu non lo ferma nessuno, ancora Amu in qualche modo riesce a passare, siamo stati fortunati qua, attenzione Amu, il tocco è per Rowi che prova il tiro, poi Dixon, palla che finisce fuori alla prima situazione, questo è un brutto errore, Dixon poteva e doveva fare meglio con il mancino, che non è il suo piede, ma c'ha 5 stelle e piede debole, rimassa laterale, Browni per Amu, ancora per Browni, quindi Amu che si sta facendo vedere molto in questo momento della partita, quindi Ciamadeu per Diego, attenzione arriva Amu con il mancino, palla per Yanks, ancora per Halo, vediamo di trovare una bella situazione nonostante il brutto passivo, Sito l'ha penetrata, ce l'ha sul mancino che non è il suo piede e l'arbitro fischia, finisce la partita, finisce 3-0, ora testa sul mercato, ci poteva stare una sconfitta contro di loro, è successo tutto nel primo tempo, siamo giunti alle ultime 10 ore di mercato ed è arrivata l'ufficialità del prestito dal West Bromwich Albion di Saul Shotton, arriva per un anno, prestito secco, senza diritto di scatto, andiamo subito a vedere quant'è di overall, perché non sappiamo l'overall, è un 54 di overall, forse mi aspettavo qualcosina di più, però in realtà come quarto difensore per coprire il buco del difensore mi va benissimo, anche perché non potevo contare sui giovani della primavera, quindi lui farà il quarto difensore, credo e spero che non lo faremo mai giocare, però insomma per un annetto ci farà molto comodo. Siamo all'ultimo giorno di mercato, abbiamo bisogno ancora di qualche colpo, peccato però che i soldi siano pochi, i giocatori che magari potrebbero fare al caso nostro costino tanto, stiamo provando un terzino sinistro, perché per il momento stiamo adattando un destro sulla sinistra, che comunque potrebbe farlo, quindi in caso non arrivi un terzino può tranquillamente giocare sulla sinistra almeno per sei mesi o anche per un anno, speriamo di no, ovviamente i due giocatori che potrebbero fare al caso nostro potrebbero essere Ali Koiki che ha il game face, è sempre molto interessante, l'altro è Cameron Junk, anche lui ha il game face, sappiamo tutto su di lui, sappiamo che costa un bel po', costa quasi un milioncino, ovviamente entrambi questi giocatori li prenderemmo soltanto con magari uno scambio, non in prestito con ditto di scatto perché sono squadre che non te li darebbero mai. Vorrei provare prima Ali Koiki, di cui ripeto non so nulla, se non che è 61 di overall, mi dicono dalla chat, e proverei, come vi ho detto, a dare il nostro terzino, che è Browning, in realtà potremmo dare anche Angus, vi dico la verità, che magari vale anche qualcosina di più e magari tenere Browning che potrebbe farci comodo, potrebbe essere un'idea anche per risparmiare qualcosina, avanziamo l'offerta, vediamo che cosa ci dicono, ok, niente, non vogliono il giocatore e per loro è un'offerta troppo bassa, quindi probabilmente non riuscivamo a prenderlo, quindi proverei anche per Cameron Junk, almeno sappiamo il valore, diciamo che costa tanto, e quindi proveremo un'offerta proprio bassa, 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 se accettano sono veramente, veramente delle brave persone, se no, amen, e io proverei ad offrire magari Angus più 300.000 euro, mi posso spingere fino a un 400-450.000, non oltre perché poi non ne varrebbe neanche la pena, ok, 20% della rivendita più 410.000, e io riproverei 300.000 e vi dico, tolgo anche la clausola e lascio Angus perché lo vogliono, vediamo cosa dicono, 610.000 euro, proviamo 400 più Angus, sarebbe comunque un'offerta abbastanza alta, 560.000 euro, mi sembrano ancora troppi, io continuo magari con un 425.000, non mi spingo oltre, questa è un'offerta molto alta, sarebbero 800.000 euro complessivi, Angus tra l'altro è un giovane della primavera, ci serve tempo per riflettere, vediamo cosa ci dicono, riflettiamo anche noi, non vogliamo avere fretta, perché Cameron John riforzerebbe tanto la nostra squadra, può giocare anche come difensore centrale, non ci serve ma potrebbe farlo, però ovviamente il costo è molto elevato e poi non ci permetterebbe di rafforzare magari altri ruoli. Ragionando con la chat, stiamo anche pensando per rafforzare il ruolo del portiere, George ovviamente ci piace tutto quanto, ma forse un portiere anche con un po' di futuro potrebbe servire, pagandolo magari meno adesso per fare un investimento, ci sono due giocatori interessanti che sono Trafford e Istam, c'era anche Boyce Clark che però costa il doppio praticamente, quindi è un giocatore già fuori mercato, tra questi due devo dire che preferisco Trafford per due motivi, uno, tanto sono tre in realtà, perché uno è più giovane di Istam di un anno, 18 anni, prende 500 euro a settimana, mentre Istam ne prende il triplo, il quadruplo, anzi prende 2000 euro e poi Trafford è alto 1,91m, mentre Istam è alto 1,81m per un portiere non è un granché, quindi io proverei a fare un'offerta per Trafford, possiamo provare a dare Paul Gavin che costa 230.000 euro e proverei ad offrire un 170.000 per arrivare a 400.000 euro, voglio cercare di strappare un cifra più bassa rispetto al suo valore, vediamo cosa ci dirà Lackrington, ci chiedono Seatle che abbiamo appena comprato, noi non vogliamo darlo, a questo punto possiamo provare Noah Chapman che è un nostro portiere in modo da poi non avere tra virgolette troppi giocatori in porta e potremmo provare Chapman più un 280.000 euro, io voglio sempre stare su quel range del 400.000 euro, 290.000 più il 4% e vi dico la verità, io proverei a tenere sempre 280.000, anzi teniamo 290.000, togliamo la clausola e avanziamo l'offerta, secondo me si può chiudere per questa cifra, no 390.000 e a sto punto rimetto la clausola magari come me l'avevano proposta e mettiamo un bel 290.000 come ci avevano detto, vediamo se riusciamo a chiudere, accettano l'offerta, va benissimo così, 4% non è nulla, 290.000 euro sono pochi più il nostro portiere e attenzione perché di stipendio ci chiede meno di 500 euro, ovviamente togliamo il bonus, 350 euro probabilmente ora alzerà un pochettino, no, accetta 350 euro a settimana e arriva il nuovo portiere che secondo me diventerà subito il titolare della squadra e l'abbiamo pagato secondo me veramente pochissimo, quindi ottimo acquisto da Lankrington, arriva Trafford. Ora avanziamo con il calendario, andiamo a 9 ore dal termine di questo mercato, vediamo se arriva qualcosa, ok, inaccettabile l'offerta per Cameron John, noi i soldi non li abbiamo quindi direi che questa trattativa salta, rifiutiamo, magari ci riproveremo più avanti ma per il momento non abbiamo tutti questi soldi. Ora proverei un'offerta per Mamadi Camarà, può giocare sia a destra che a sinistra, un giocatore che non sembra niente male, me l'hanno consigliato un po' di ragazzi della chat, vediamo di provare a fare un'offerta come sempre, ormai diventerà quasi una cosa rincorrente, però dobbiamo provare degli scambi e vediamo di dare magari uno dei nostri giocatori tra virgolette più importanti, potremmo dare King che vale comunque la metà e quindi possiamo però arrivare a Camarà, se no in realtà potremmo anche provare sempre chi era pure questo qua, questo Paul Gavin che vale tanto per il valore del giocatore e magari proviamo un 120.000 euro in più, vediamo che cosa ci dicono, ok non vogliono Paul Gavin, vogliono 360.000 più l'8% della rivendita, la rivendita la lascio tranquillamente però ho bisogno per forza di fare uno scambio e proverei a mettere dentro magari questo Sergi Marquez per abbassare un po' le pretese per il loro giocatore e proviamo sempre un 100 direi 110.000 con l'8%, potrebbe andarvi bene, vediamo che cosa ci dicono, ok 180.000 il giocatore lo vogliono, interessante, abbassiamo magari a 140, non voglio rischiare di perdere il giocatore, 140 più il 5% più Sergi Marquez 150 più il 7%, mi va benissimo, accettiamo l'offerta, proverei ad offrirgli 400 euro e un bonus ingaggio da 5.000 euro, non è bassissimo però credo che per questa cifra potrebbe andare bene, ovviamente deve capire che sta scendendo dal reading ad una squadra di basso basso livello ma da noi potrebbe trovare spazio, presenze, il bonus lo tolgo, 500 euro a settimana vanno benissimo, accetta mamma di Camara che sarà un nuovo giocatore del nostro Biuri, probabilmente l'ultimo acquisto di questo mercato che però ancora non è finito. Ora mancano 8 ore alla fine del mercato, arriva un'offerta per Clayton che è il nostro capitano dal Real Oviedo che è una squadra di serie B spagnola, andiamo però a rifiutare, il capitano ripeto non si muove. Manca un'ora alla fine del mercato che in realtà ormai per noi si è conclusa, non è arrivata nessuna offerta se non quella per il capitano che però abbiamo rifiutato, vi faccio vedere il nostro mercato che è stato super super movimentato rispetto al resto del campionato. Eccoci qua, abbiamo speso 1.660.000 con un profitto di 725.000 euro, abbiamo secondo me ancora però tanti giocatori da vendere che spero venderemo nel mercato di gennaio. In totale abbiamo speso un mezzo milione, ovviamente con gli stipendi abbiamo fatto qualcosa di più perché sono arrivati i giocatori a parametro zero. Andiamo a chiudere il mercato, vi faccio vedere ovviamente tutto il mercato, la rosa finale e arrivano intanto però una cosa molto importante che sono gli aggiornamenti della primavera che per noi è come se fossero degli acquisti, questo però non mi sembra un granché, io li ingaggio comunque per vederli poi proprio come giocatori ma non mi sembra un granché, questo invece non sembra niente male, scozzese con un buon potenziale, un buon già anche overall potenzialmente quindi ingaggiamo mentre questo qua, quello inglese ce ne trova due, uno è questo Clemens che lo vado a prendere mentre questo qua, attenzione, Cameron Miller giocatore super interessante con un potenziale alto 52-70 e questo potremmo già chiamarlo in prima squadra. Andiamo quindi subito a vedere il giocatore, vedere com'è perché sembra davvero niente male, eccolo qua è un 58 di overall, un centrocampista centrale che in realtà ci serviva ed è uno dei migliori della nostra primavera e io vi dico sinceramente questo qua non aspetto e lo promuovo già in prima squadra. Ora finito il mercato, arrivano le partite, dobbiamo fare un recupero in questo campionato, dobbiamo uscire dall'ultimo posto, Halo intanto può diventare esterno destro, diventa 68 di overall, tanta tanta roba, ecco il resoconto del mercato, abbiamo ceduto un po' di giocatori, è arrivato poi Halo a parametro 0, vale già un milione e due dopo che è cresciuto, 68 di overall, ottimo esterno per la nostra squadra, uno dei nostri pilastri già della squadra, poi Kendall in prestito, Barlow venduto all'Exeter, Townsend venduto, Myers venduto, è arrivato poi a parametro 0, Kuzakos che per ora è il terzo barra quarto attaccante, un giocatore che però migliora la rosa, è arrivato poi come titolare sulla sinistra, Amu, un giocatore che è arrivato perché era nella lista trasferimenti, anche un po' per essere realistici, secondo me è veramente un giocatore che per il prezzo che abbiamo pagato, ne vale la pena, è arrivato poi Yanks a parametro, non parametro 0, in prestito con diritto di scatto a fine stagione, se vorremmo riscattarlo lo riscatteremo a mezzo milione, sono tanti ma vedremo quanto sarà migliorato, quanto avrà inciso in questa League 2, è arrivato poi Ciamadeu a 420.000 euro, un po' meno rispetto al suo valore, ottimo terzino secondo me, poi Phillips venduto al Finars, Box elevato a parametro 0 come terzo difensore centrale, Seatol acquistato per 100.000 euro più Mellor, un nostro terzino sinistro di riserva, ottimo attaccante anche lui che può fare anche l'esterno all'evenienza, è arrivato poi James Jag, un australiano, se non sbaglio neozelandese, no neozelandese, Trafford è arrivato per 290.000 euro più Chapman che era un nostro terzo portiere ormai, giocatore che potrebbe essere buono già per fare il titolare, vedremo già di lanciarlo magari in questa prossima partita che avremo, è arrivato poi Shotton all'ultimo giorno di mercato in prestito senza diritto di riscatto, giocatore che farà il quarto difensore centrale e poi è arrivato Camarà per Marquez che era un giovanissimo della nostra squadra, un 47 di overall più 150.000 euro, ci siamo andati a prendere un ottimo giocatore che useremo come esterno ed è un giocatore in più per avere più profondità nella rosa perché le partite sono tante, abbiamo un campionato veramente lungo, ora andiamo ad affrontare il Northampton che è undicesimo in classifica, vediamo di riprenderci un po', saremo fuori casa e vediamo di tornare a fare dei punti, ne abbiamo bisogno perché non voglio più vedere il Beauty all'ultimo posto, abbiamo finito, ripeto, il mercato, andiamo con questa partita, forza, forza Beauty. Ed eccoci qua al Kurt Lane che ovviamente non è lo stadio del Northampton, non so tutti i listadi della League Two, se qualcuno di voi li sa, bravi voi, ma io ho altre informazioni importanti nella mia testa, siamo fuori casa, questo però lo sappiamo, siamo contro una squadra che è a metà classifica, ovviamente la classifica ancora non ci dà nessuna informazione, però sono tutte squadre, lo sappiamo, più forti di noi. Connelly se ne va via sulla fascia, il loro numero 10, mette il pallone dentro, attenzione lo stacco di testa, palo incredibile, Dixon, attenzione che è partito Rowey, lo serve molto bene Dixon, attenzione Rowey, Rowey, Rowey davanti al portiere, non può sbagliare, Rowey, no, non ci credo, non ci credo, che errore di Rowey. Attacca il Northampton, palla fuori per Sowerby, quindi Pinnock, palla sul destro, poi sul sinistro, siamo piazzati bene, Trafford, che parata del leo portiere del nostro Beauty. Ora possono mettere il pallone dentro, invece tocco corto, bravissimo Walker, recupera molto bene, quindi Rowey subito per Dixon, che può lanciare Rowey, il passaggio non è irresistibile, però qua Rowey va di astuzia, Rowey non può sbagliare, Rowey non può sbagliare, Rowey, la paratona di Roberts, Rowey veramente davanti alla porta, fa fatica. Calcio d'angolo, va Halo dalla banderina, bel pallone dentro per Dixon, arriva il colpo di testa del giovane Dixon, che si è preso al numero 10, arriva un gol importantissimo da calcio d'angolo, bravo Halo, e bravo il nostro Dixon, usciamo bene dalla nostra area, quindi palla per Halo, che deve tenerla, fa salire Brownie, che c'ha spazio ora davanti a sé, palla subito per Dixon, tocco dietro per Walker, quindi geggo, facciamo cedere subito al pallone, palla quindi per Amu, può mettere il pallone dentro, attenzione, Rowey, il colpo, e mamma, che parata, e poi arriva il gol, a porta praticamente vuota di Rowey, che segna anche in questa partita, sempre criticato, ma alla fine il timbro ce lo mette sempre, gol da numero 9 da Rapace, arriva il gol del 2-0, devo dire che forse abbiamo trovato un po' la quadra con il nuovo portiere, con Amu e Halo spostati, uno sulla sinistra, l'altro sulla destra, riusciamo a giocare meglio, gran bel gol, soprattutto perché stiamo giocando bene, siamo in controllo, stiamo meritando, bella bella partita per ora, possono ripartire loro, manca poco alla fine, non vogliamo subire gol, manca troppo poco il palonetto, arriva il gol del 2-1, anzi del 1-2 che poteva riaprire la partita, peccato aver subito il gol, perché Trefford aveva fatto un'ottima partita, finisce la partita, 3 punti per noi, prima vittoria del nostro Biuri e ora saliamo a 4 punti, forse saliamo anche dal 24esimo posto, è ancora lungo, lunghissimo il nostro percorso, però ragazzi, trust the process, mi raccomando.